Ciao a tutti e benvenuti a Touch the Innovation, l'evento speciale digitale di Logica Control. Buongiorno, sono Fabio Udine, sono Presidente di Logica Control. Logica Control è una società di progettazione e realizzazione di sistemi elettronici per processi e impianti industriali. È un'attività che si basa sullo sviluppo di idee, di fantasia, di innovazione. Questo significa che avere un impegno nell'innovazione richiede anche la capacità di riuscire a comunicare e a diffondere i messaggi che nascono dal nostro lavoro. Per questo è sempre più necessario poter diffondere i nostri messaggi tramite operatori specializzati che ci accompagnino in questo nuovo mondo della comunicazione e del marketing. Certo, è impegnativo in quanto non è più solo una questione di comunicare chi siamo e che cosa produciamo, ma è anche un modo di trasferire all'esterno quali sono le nostre competenze, le nostre capacità, qual è la nostra visione e qual è tutto sommato il nostro sogno. In questo, Logica Control ha deciso di investire decisamente, avvalendosi di un'organizzazione altamente professionalizzata come Stipa, con la quale abbiamo sviluppato prodotti e servizi di grande valore aggiunto. E per questo li ringraziamo. See you soon. Hope to see you soon. Goodbye and thank you. Thank you. Bye and thank you. Bye and thank you. Grazie a tutti.